L'ex ministra della salute e deputata PD Beatrice Lorenzin ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus. Comincio le cure grazie all'aiuto di medici e infermieri, ha scritto pubblicando un video sui social in cui parla delle sue condizioni. Un po' di febbre in questo momento, mal di gola, ma le altre funzioni sono sotto monitoraggio, la situazione è tranquilla. Volevo dire che questa è proprio una bestiaccia di virus se io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata, quindi essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo. Un abbraccio va anche a tutte le altre persone che in questo momento si trovano nelle mie condizioni. Io ho i figli negativi, il marito negativo, il problema di come organizzare la famiglia, l'isolamento, la quarantena, non è facile per nessuno. Prestiamo tutti particolare attenzione e veramente un abbraccio a tutti.